A Rezzo si prepara alla decima edizione dell'Arezzo Celtic Festival. Ne parliamo in compagnia di Mauro Melis, Presidente dell'Associazione Cerchio delle Antiche Vie, che ha un ruolo Mauro determinante nell'organizzazione di questo festival. Esatto, intanto buongiorno a tutti. Come sempre un appuntamento ormai dalla prima edizione a oggi ospiti a Teletruria, proprio per parlare di questo evento che come associazione non organizziamo, ma ci sono tante piccole associazioni come noi che partecipano a realizzare questo sogno. Per me, perché io lo ritengo la mia creatura, perché sono stato l'ideatore di questo evento, poi pian piano negli anni molte associazioni di tutta Italia si presentano per darci mano. Mauro, quando organizzasti la prima edizione ti aspettavi di avere questo successo? Allora, no. Sinceramente no, perché comunque stiamo parlando di un festival un po' particolare, nel senso che comunque si mastica poco per quanto riguarda il Celto, specialmente in Arezzo. Arezzo c'è una bellissima storia, bellissima fra virgolette, comunque è una storia che nel 285 a.C., quando gli abitanti di Arezzo, che erano gli etruschi, vivevano sottoposti a Romani, a un certo punto si sono alleati con i Celti, facevano dei scambi di artigianato, a un certo punto hanno deciso di liberarsi dei Romani. Ci fu una battaglia dove per un periodo i Romani non erano più in Arezzo, ma c'erano gli etruschi e i Celti e noi riproponiamo quel periodo lì. Cerchio delle Antiche Vie, questo nome è molto suggestivo, particolare, rievoca un passato ormai lontano. Come è nata questa associazione? Allora, è nata un po' per dare delle informazioni di quello che poi il neopaganesimo in Italia si sta parlando nel 2003, quando comunque Internet esisteva ma era usato male. Le poche informazioni che c'erano, ma erano distorte. Noi abbiamo messo a disposizione il nostro sapere, le nostre conoscenze per dare informazioni più precise di cosa è il paganesimo. Poi alla fine sono vecchie strade che si fanno, vecchie strade, cerchio delle Antiche Vie perché si parla di tutto ciò che è antico. Mauro, sei ispirato alla Scozia. Sì, diciamo che è una mia passione, è uno dei miei punti che mi ha spinto perché il mio primo viaggio è stato proprio in Irlanda, ho visto questo favoloso mondo e la storia si parla dei Celti proprio legati alla Scozia. La sensazione è che voi cercate di armonizzarvi non solo con la storia ma anche con la natura? Sì, questo è il principio proprio di questo movimento, è legato alla natura, il rispetto della natura, il rispetto di chi ci ospita, chiaramente la terra ci sta ospitando. Come si svolgerà questa edizione? Un'edizione in grande stile immagino? Sì, per essere la decima edizione noi stiamo già pensando in grande e abbiamo raddoppiato quasi tutti gli eventi di quelle serate, delle tre serate dove già iniziamo il venerdì pomeriggio con musica, danze, spettacoli, workshop, tantissime cose. Ecco, ci sono queste fotografie, le commentiamo insieme, questo sei tu. Esatto, questo qui sarà l'unfasting che si festeggerà il Beltane, il Beltane che quest'anno noi lo faremo il 3, 4, 5 maggio a Castiglione Fibocchi, è proprio legato all'unione del Dio della Dea, perciò l'unfasting, è un vecchio matrimonio che si faceva all'epoca, più che matrimonio è un'unione che si fa fra le coppie. Ecco, ci sono molte persone che seguono la vostra attività, che condividono con voi questi momenti? Sì, diciamo che il nostro sito, le nostre pagine sono seguite da tantissime persone perché oltre a fare festival si dà anche informazioni di quello che facciamo durante l'anno, chi non può facciamo anche delle videoconferenze per rispondere a tutte le domande che uno fa. C'è un aspetto che mi ha incuriosito, la luna è sempre misteriosa, perlomeno la consideriamo sempre con un alone di mistero, voi cercate di armonizzarvi con la luna? Legata proprio a questo percorso, la terra e la luna, la madre e la terra e la luna comunque sempre la madre. Perché tutto rientra nello stesso, che è una filosofia di vita, la possiamo considerare così? È uno stile di vita, più che filosofia è uno stile di vita, chi rispetta la natura molte volte viene ripagato anche dalla natura stessa. Voi cercate di fare un lavoro anche di divulgazione della conoscenza, per esempio anche una corretta informazione dite sul neopaganesimo. Esatto, nel neopaganesimo parliamo di tutto ciò che non è cristiano, ma non per questo non ne parliamo anche del cristianesimo. Tante conferenze che ho fatto io l'ho fatta insieme a dei preti che abbiamo messo i vari punti, abbiamo parlato delle varie risposte. rispetti, cose simili, cose differenti. Uno scambio di esperienze, di opinioni e di culture. Organizzate anche i seminari, i laboratori, ecco questa è anche un'altra parte abbastanza importante. Allora, noi durante l'anno facciamo degli incontri proprio per chi è interessato a conoscere meglio questo percorso che il Cerchio delle Antiche Vie offre. Un'associazione quindi che esiste da quanti anni? Allora, dal 2003, la prima associazione è stata creata nel 2003, si chiamava la Congrega di Avalon, poi Congrega di Avalon, diciamo che era un gruppo di amici, pian piano ci siamo allargati e nel 2005 abbiamo fondato proprio il Cerchio delle Antiche Vie che rappresenta e racchiude un po' tutte queste cose. Queste sequenze si riferiscono? Questo chiaro è il Celtic Festa durante le sfide che noi facciamo con il pubblico, perché il nostro slogan è proprio immergiti nel magico mondo dei Celti. Va detto, ecco se non sbaglio, se non ricordo male, le prime edizioni le organizzavate a Villa Severi? Allora, la prima prima nasce a Lignano, al parco di Lignano, l'assessore dell'epoca, il Dringoli aveva creduto in noi, ha creduto in noi perché in qualche modo ci avevo parlato, avevo spiegato il nostro progetto e ci hanno fatto proprio fare la prima edizione a Lignano. Poi per problemi di logistica Lignano è stato scansato e Villa Severi è stata la seconda location che ci ha ospitato. E avete praticato praticamente per tre giorni anche allora? Sempre, sono sempre tre giorni, abbiamo fatto soltanto nel 2015 una a quattro giorni, ma è dura. Gestire quattro giorni con tutte queste persone che vengono è veramente dura. C'è anche un aspetto, se vogliamo, gastronomico che accompagna un po' le vostre rievocazioni. Noi offriamo… Sappiamo che, voglio dire, la cucina scolzese ha poche affinità con quella mediterranea. Sì, allora la nostra offerta gastronomica è per un po' per tutti i gusti. Chiaramente essendo un parco dove l'ultima edizione ci sono state più di 60 mila persone in tre giorni, abbiamo bisogno di dare un'offerta anche meno mirata al Celtico. Chiaramente se uno vuole vivere e vedere come funzionava all'epoca, abbiamo il nostro villaggio fra Celti, Etruschi e Romani che loro fanno proprio vita di campo. Come si mangiava, cosa si mangiava, workshop perciò come si lavorava, ma soprattutto nei Romani come si addestravano per mantenere, vigilare il suo rezzo. Mauro, il cognome tuo Melis è un cognome sardo, cagliaritano nello specifico. Hai avuto la possibilità diversi anni fa di entrare a contatto con la realtà Aretina. Complessivamente la realtà Aretina ti sembra abbia accettato queste vostre manifestazioni? Allora sì, come un po' tutte le prime edizioni è stata molto lenta, chiaramente non verrà mai appoggiato al 100% perché chiaramente stiamo parlando di una cosa che ancora oggi, nonostante le decime edizioni, ancora oggi molti pensano che noi siamo dei forbitesta, diciamo così, chiaramente a Arezzo siamo un po' chi si vestono quel chilt e viaggiano per Arezzo senza problemi, perciò ancora c'è questa visione di noi come persone un po' strane, però noi offriamo veramente il modo di conoscerci, di parlare anche quei ragazzi come vedete, vabbè, gli assessori, i nostri ragazzi, immergervi proprio nel magico mondo dei celti partecipando da quest'anno anche negli accampamenti. Quindi tu hai l'impressione, mi sembra di avere capito, di ricostruire un po' la vostra storia, che siete stati visti inizialmente con una certa diffidenza, se non addirittura, scusami la parola, con sospetto. Sì. Ecco. Esatto. Poi col passare del tempo hai l'impressione che invece abbiate trovato la vostra dimensione e siete stati gradualmente, voglio dire, accettati o comunque avete ottenuto anche l'interesse e la curiosità altrui. Chiaro. Passato, la difficoltà più grossa è stata i primi due anni. Dal terzo anno in poi, anche grazie al Comune che crede in questa attività, in quello che noi proponiamo, ci spinge e ci sostiene in tutto quello che noi facciamo. In tutto quello che voi fate. Ecco, un aspetto che mi preme puntualizzare. Voi rifiutate qualsiasi forma di violenza. Sì, esatto. Ecco, questo è un aspetto che secondo me deve essere messo in evidenza, anche per individuare, per chiarire esattamente qual è lo spirito di questa manifestazione. Esatto, esatto. Noi la prima regola è il rispetto. Rispetto di tutto, dell'ambiente, di chi ci ospita, delle persone che vengono, di chi è incuriosito per venire. Da noi, questa decima edizione, non c'è mai stato un momento violento, comunque non ci sono mai state scene dove la gente si è potuta lamentare. Si è potuta lamentare. Mauro, siamo ormai quasi al termine di questo nostro spazio a spunti e spuntini. Vogliamo ricordare qualche data? Allora, quest'anno date numerose. Si inizia col 3, 4, 5 maggio a Castiglione Fibocchi col Beltane Celtic Festival, 21, 22, 23 giugno per l'Eprecaun Magic Festival a Sansepolcro, 26, 27, 28 Arezzo Celtic Festival, 31 ottobre, 1, 2, 3, Monte San Savino, la città di Halloween. Perciò andiamo quest'anno proprio, i comuni credono in noi e niente. Vediamo cosa possiamo fare. Grazie, grazie davvero a Mauro Melis per aver accettato il nostro invito a spunti e spuntini. Mauro Melis dell'Associazione Cerchio delle Antiche Vie, con il quale abbiamo parlato della prossima decima edizione dell'Arezzo Celtic Festival. Grazie ancora a Mauro, la linea può tornare alla regia. Grazie a voi.